oh ragazzi siamo ancora qua alla CM3 quindi la DR l'abbiamo già sperimentata e sprintata e va benissimo, contentissimi, adesso proviamo la K plus 1.285, uno più uno meno, non è che cambia la situazione, te invece ti lamenti anche te? è del vuoto, praticamente quando si accelera perde un attimino poi riprendi dai 2.500 in su si scatena però anche se non è aspirato però quel vuoto vuol dire tanto mi dicevi che una persona ti ha detto che non esisteva niente da mettere su questa macchina no non c'era, non c'era niente non facciamo nomi non c'era niente e invece la chiamata è stata fatta no è venuta qua personalmente sei venuto e hai detto guarda che c'è esiste anche per la tua esiste provata abbiamo già testato qua col pedale accelerato, anzi facciamolo vedere dai facciamolo vedere ne parliamo sempre della prova da ferma ma non la faccio mai vedere dai facciamolo vedere eccoci qua cosa cosa vogliamo intendere noi adesso lui c'è il telefono esatto allora ragazzi lui si tiene accelerato a 1200 metti anche il telefono così così perfetto adesso vai su sport o race quello che vuoi e lui accelerato uguale prova a spegnerlo e si abbassa dei giri visto come sblocca la farfalla vai su v2 che eri prima su sport vai su race e sale di oltre 1500 in giro e lui ancora schiacciato col pedale pensa quanto lag quanto lag c'è sul pedale che va a comandare la farfalla quindi questo cosa ti da più sprint e più velocità non velocità di punta velocità a riprendere i giri ecco tutto qua perché lui cosa fa dopo i 3.000 3.500 giri lui si spegne il pedo sprint interviene poi la potenza motore ovviamente perché non è una mappa motore la centralina è un modulo montato dove non si va a perdere la garanzia ragazzi mi sembra di aver detto tutto andiamo a farci un test test drive andiamo andiamo ragazzi la corda è questa la k è questa qua la k la k plus due fratelli sai che non è mai successo c'è sempre da sempre roba nuova poi insieme no mai 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 marito e moglie è successo si 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 è successo la moglie perché lo cura ma guarda allora il telefono lo tengo sempre io così si si usciamo poi mi arriva un signore con quella macchina lì da cuneo lunedì mi arriva un altro signore con un alfa stelvio quella così grigio non so che colore sia comunque stelvio la ritira lunedì e mercoledì è già qua cioè la ritira lunedì nuova di pacca la 280 turbo benzina e anche lì però lui c'è un lag è imbarazzante il lag che c'è la stelvio e la giulia sul pedale una volta che gli metti il pedal veramente quella si scatena lì 80 sarà la turbo veloce sicuro sì 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 un bel macchinino una bella una bella macchina la stelvio niente da dire adesso adesso siamo spettia torniamo indietro solito giro ragazzi tanto ormai dei video si capisce c'è famiglia la corte lombarda ormai sta sempre lì non si può sbagliare tu è autotrasportatore di cosa cereali cereali fatto 15 anni in mena latte io lo sai io ho fatto solo tre anni con i sieri ok lo sento questo gioco che ha il pedale visto sì sì ho notato ho notato ho notato lo metto in sport è partita in avanti la miseria ragazzi 1200 c'è che non è esatto ci sono certe macchine che prende di più c'è altre macchine che prende il giusto questa è una di quelle che poi prende bene anche la percorso a 1.2 normale ma sai come vanno bene quel pedal porca miseria ma le risveglia tanto eh guarda la lascio così vai guarda fattola di terza c'è ciao ma che roba eh sì prima l'abbiamo usato di ribu e bu e dopo andava su esatto ragazzi si vede si vede si vede siamo in sport è meglio così o no porca miseria ma ti è che la guinta tira su il finestrino per piacere ok guardate ragazzi adesso la spiaceso ovviamente e noi qua siamo in sport lo ripeto lui si trova bene in sport può spegnere il cellulare lui rimarrà sempre settato in sport ogni volta che accende spegne la macchina anche se lascia il cellulare a casa la macchina rimane in sport il pedal sprint rimane in sport poi ci può abbinare altri numeri di telefono ma non me l'hanno chiesto quindi non te le faccio neanche tu vuoi abbinare il pedal no? no lo vuole usare solo lui quando vado al meccanico io lo spegno oi ma no la macchina la vanò la vanò come andava eh? andava no? bisogna cambiare questo o cambiare questo? esatto c'ha da cambiare la centralina e non capisco il perché adesso facciamo la partenza da fermo alla corte lombarda e dì come è subito pronto come dai gas stiamo fermi ragazzi ti devi abituare poi niente di grave siamo contro il sole terza terza perfetto sì eh eh ma è subito esatto rigira pure a destra poi ti faccio fare anche qualche partenza stesso discorso di prima guarda è subito così è spento così è subito io l'ho spento perché se sei sopra i 2000 i 2000 3000 senti che adesso te l'ho messo in race ecco perché non gli ho detto niente e mi fa mamma tira ti sento sempre la risposta io l'ho girato in race tu sei filo gas sì sì sono filo gas mi fa dobbio la madonna è una madonna è bello è bello porca miseria c'è una notevole differenza certo sì 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 c'è lo sblocco dell'acceleratore e la percezione delle pedali che non ha più il vuoto è una cosa veramente da provare perché uno lo dice nel video ma a casa magari non si capisce no ma una volta che lo provi è sulla tua macchina lo giriamo sì esatto è una macchinina sì sì non è che pretende chissà che cosa però giusto quello sprint esatto magari da certe situazioni sì sì giusto con un passino veloce esatto esatto adesso ragazzi siamo fermi e siamo in race vai pure eh sì eh dai ragazzi siamo sull'autoban autoban zone industrielle quel che tu lo metti in sport vuoi provarlo in sport? sì ok sport se si vede ok sale subito e non hai il vuoto della cambiata infatti è sempre è sempre in tiro perfetto quindi approvata approvata anche sulla Ford Cup Plus subplas guarda 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 che vuole fattinare ha giudicato ha giudicato ragazzi ha giudicato quindi ragazzi passate passate solo per curiosità a provarlo cioè dice ma no ma sulla mia non serve passate provate provatelo per provare esatto tutte le macchine si meritano uno sprint in più senza andare a toccare centraline roba del genere la differenza si sente porca miseria mettiti pure dritto così tanto siamo tutti tra di noi allora aspetta aspetta mettiti in folle prendo mano telefono anche te devi andare a fare la spesa e devi mettere il pedal block allora mettiamo questo e la macchina non va non va il contagiri non va niente Houston abbiamo un problema allora tu spegnerai la macchina anzi fai proprio così spegni la macchina tira via la chiave chiudiamoci dentro perfetto lui rientra apre la macchina mette in moto se no non si accende esatto lui è uscito perché abbiamo scollegato bluetooth adesso si riprenderà esatto sblocca sempre con quello in alto a sinistra si è attivo così ah scusa eh no vedi non abbiamo spento l'app prima abbiamo spento la macchina senza chiudere l'app ecco eh sì ok bella ho scoperto il trucco via moment please facciamo così chiudi tutto esatto vai vi facciamo vedere in tempo reale che se la gente ha problemi di difficoltà aps si ecco come fare è comunque sempre un app ci può capitare il bug vai perfetto ok è visto tac problema risolto tutto perché abbiamo sbagliato noi prima a non spegnere prima l'app spegni l'app spegni il cellulare perché se tu spegni subito quello lui si sconnette e rimane lì bloccato dice cosa sta succedendo alt moment please in caso che succede sai come devi fare pulisci tutto e riapri e riapri l'app perfetto grandi grazie Gerry grazie grazie mille ragazzi due non colpo solo è micidiale oggi di R Ford sprintati tutti qua ragazzi iscrivetevi al canale c'è M3 Car Service sono Gerry da Castellione tutto ciao ragazzi alla prossima grazie grazie ciao 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 ciao